Stiamo perdendo tempo per delle puttanate Eh ma così non ha senso Luca O lo fai con un paio di scarpe e con mille Non farmi vedere cosa Ma come no? Se io sono 53 mi sono pesata l'altro giorno Sono sempre 53 fissa Sono aumentato di 4 kg con tutta sta roba Esatto, io sono aumentata di 2,5 kg Con questi vestiti E io sono 53 E poi calcolando che ci si pesa al mattino Sto proprio vuoto, sai ho anche mangiato Ma vabbè Ciao amici Come state? Che odio Per colpa tua mi stai levando il cervello Continuo a dire come state Comunque ieri lunedì 11 maggio Katia ha lanciato un hashtag Su facebook firmando la sua condanna a morte L'hashtag è Crisi da prova costume BAM Quindi se volete seguire questa avventura Questa mini avventura di Katia Ricordatevi Crisi da prova costume E lo sto scrivendo qua sotto BAM qua sotto Cito le sue testuali parole Ho intenzione di perdere 5 kg Entro agosto E ho bisogno del vostro aiuto per motivarmi Per ogni like che riceverà questa foto Farò un addominale Domani il video Bene Ci siamo E' il momento della verità Vieni porca ti Dove stai scappando Vieni qua Cosa c'è? La foto ha raggiunto 412 mi piace Quindi dovrà fare 412 addominali Pronta? Ma non ce la farò mai raga mi volete morta Guarda mi esplode mi esploderanno le pudelle Ok Quindi come prima cosa dobbiamo vedere quanto pesa attualmente Calcolando che sono vestita Seria sono 53 Ecco la bilancia è una stronza Sta facendo la stronza E? E fa vedere 55 Ok Guarda che faccio la foto Cos'è? Mi devo pesare da nuda? Grande ragazzi Grazie per averla morta così tanto Vai Fate la canzone quella No perché è coperta da diritti Dimi forte Sto tenendo forte 1 2 Conto io 3 4 5 6 53 Vai Vai Sto per movidare Dai che ne mancano tantissimi 54 Vai Vada a prenderti dell'acqua Continua Continua Ok raga Amici Se ne è andato Sto tipo morendo Non ce la faccio più Le ho fatti 60 Cioè è una roba Impossibile Mi è venuta Un'idea fantastica 504 505 506 507 508 9 10 Ma non vale Katia Non vale No stop Ma non hai detto niente Non vale Non vale No non vale No Sto facendo stacca Ma mica No No raga Non vale No Non vale Non vale Ma non hai superata questa prova Sì che l'hai superata Sapete altre cazzo di sfide da suggerirci In modo tale che mi aiutate a farla dimagrire A farle perdere questi cazzo di 5 kg Suggeriticele qua sotto Ok Qui sotto Qui sotto Anche allenamenti Ma non vale Epercizi da fare Efficaci Ma che cazzata è Ma si che vale Stavo sudando Sono sudatissima Ma da farmi la doccia Ma Ce la faccio più Un po' Un po' Un po' Un po' Un po' Grazie a tutti